Il 2023 potrebbe essere la più grande opportunità degli ultimi decenni per costruire la tua ricchezza. Non è una novità infatti che i veri ricchi si creino durante i periodi di recessione ed è proprio quella a cui stiamo andando incontro. Quello che succederà nei prossimi mesi credo che andrà a tracciare una linea netta tra ricchi e poveri eliminando quasi completamente il ceto medio. Quindi se stai guardando questo video e sei interessato ad essere nella posizione più vantaggiosa rimani con me fino alla fine per capire come approfittare di tutto questo e non farti schiacciare completamente. Partiamo col dire cos'è una recessione perché tanti stanno parlando di recessione un po' per sentito dire un po' perché lo hanno letto da qualche parte ma capiamo davvero cos'è una recessione. Si può dire che siamo in un periodo di recessione economica quando si registra una crescita del tasso di disoccupazione quando c'è una riduzione degli stipendi quando c'è un calo delle vendite al dettaglio e quando c'è un depreciamento dei maggiori asset finanziari. Tutto questo per un periodo di tempo prolungato, parliamo di almeno due trimestri. Ecco questo cane che si morde la coda se vogliamo è chiamato recessione. Quello che abbiamo visto negli ultimi tre anni dal c***o fino ad oggi è qualcosa di imbarazzante e sconvolgente allo stesso tempo. Partendo dalle persone rinchiuse in casa al clima generale di odio e terrore che sono riusciti a distillare nella mente delle persone. Ma la cosa più grave è quella che hanno fatto mentre tutti erano distratti. Parlo ad esempio della folle stampa di denaro oppure dei magheggi politici fatti sotto banco eccetera eccetera eccetera. Fino ad arrivare all'attuale guerra tra Russia e Ucraina che in realtà è tra Russia e America. Ora non voglio entrare nel dettaglio riguardo questo argomento però la vera guerra è tra Russia e America. Quindi qualcosa di molto più grosso. Che sta portando principalmente l'Europa ad un'inevitabile crisi energetica. Che a sua volta porterà ad una crisi anche delle aziende. Che quindi dovranno far fronte ai costi sempre più elevati, ai costi aziendali sempre più elevati. E di conseguenza ancora ad un inevitabile aumento della disoccupazione. Anche se questa cascata di cose negative può sembrare una catastrofe. In realtà le recessioni succedono in modo ciclico. Sono già successe ad esempio negli scorsi decenni. E la buona notizia è che se sai cosa fare riuscirai a sfruttare una delle occasioni migliori della tua vita. Per farlo ci sono due parole chiavi che devi stamparti in mente e non devi mai scordarti per nessun motivo. La prima è consapevolezza. La seconda è pazienza. La chiave infatti è studiare per capire il mercato e creare un tuo punto di vista del mercato. Quindi non agire per sentire o dire o perché me l'ha detto quello che è bravo, me l'ha detto quello che è multimiliardario eccetera eccetera. Studia per crearti un tuo punto di vista sul mercato. E soprattutto sii paziente per capire qual è il giusto momento di investire. Queste qua sono davvero le chiavi per riuscire a sfruttare al meglio questo tipo di periodi. Alla base di questo deve esserci chiaramente anche una fonte di cash flow. Quindi che ti dia una fonte di entrata che ti dia modo di investire i soldi che andrai a generare. Io come soluzione ad esempio mi sto focalizzando molto da ormai due anni nel mondo della blockchain. E se ancora non l'hai fatto ti invito ad andare a guardare uno dei miei scorsi video dove ti spiego passo passo come andare a guadagnare da 2000 euro al mese in su nel web 3. Come ti anticipavo a mio avviso per il momento è troppo rischioso investire quindi io in particolare mi sto focalizzando sullo sviluppo della tecnologia blockchain ed NFT. Quindi attraverso la mia agenzia galattica andiamo ad implementare la tecnologia blockchain ed NFT all'interno di aziende o comunque per persone che vogliono sfruttare appunto questa nuova tecnologia. Se sei interessato tra l'altro a farlo anche tu ti invito a visitare il mio sito lorenzocampo.com e a cliccare su voglio lanciare il pulsante giallo voglio lanciare e a compilare appunto il for per vedere se sei idoneo alla collaborazione. Mentre per quanto riguarda la parte di investimento in questo momento sono completamente fermo anzi in realtà ho ritirato in banca tutti i soldi appunto che avevo investiti sono soltanto esposto in NFT. Detto in modo molto trasparente tra di noi sono esposto appunto sui NFT quindi ho dei soldi sui NFT ma tutto il resto ora li ho ritirati e li ho messi in banca aspettando un momento più propizio. Perché dico questo? Perché a mio avviso quello che è successo nei scorsi tre anni appunto senza stare a ripetere tutto quello che magari già sapete o comunque andate a vedere anche in giro l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse eccetera eccetera non è stato ancora scontato dal mercato. Intendo il mercato quello che ho detto un po' più massiccio quindi parliamo dell'SP500 del mercato immobiliare. Ecco a mio avviso quando ci sarà questo sconto da parte del mercato quindi quando si andranno a deprezzare asset come questi che ho appena detto allora ci sarà un ulteriore crollo delle cripto. Ovviamente questo è il mio punto di vista posso sbagliarmi non sono un consulente finanziario non ho intenzione di esserlo però quella cosa che voglio dirvi è che se mi sbagliassi so comunque come andare a comportarmi. Quindi è questo quello che dovete andare a sviluppare una consapevolezza di questo tipo che nessuno ha ragione sempre è impossibile ok? Quindi voi dovete avere una vostra idea in modo tale che se succede lo scenario A fate una cosa se succede lo scenario B allora ne fate un'altra ok? Quindi nel mio caso appunto il mio focus come ho detto è sulle criptovalute in questo momento per quanto riguarda l'investimento durante questo periodo di recessione. Se succede quello che penso ovvero A che le cripto scenderanno ancora tanto meglio ho i soldi pronti e andrò ad investire appunto in modo massiccio sulle cripto. Se non succede quindi se per qualsiasi motivo le cripto dovessero iniziare ad alzarsi e quindi dovesse riprendersi tutto il mercato dovessero iniziare la nuova Burran quello che andrò a fare è non investire magari sulle coin con capitalizzazione di mercato maggiore quindi bitcoin, ethereum eccetera ma vado ad investire su quelle che so che vanno a seguire l'andamento di queste coin. Facciamo un esempio pratico ethereum non vado ad investire su ether che è appunto eth la coin di ethereum se sale tutto subito e me lo sono perso mi sono perso il treno tra virgolette ma vado ad investire su matic che è come investire un po' in leva su ethereum e andrò a fare dei ritorni maggiori ok? Quindi ripeto questo qua rimetto ancora il disclaimer non vi sto dicendo di fare questo sto dicendo di avere una vostra strategia in ogni caso quindi non venite neanche qui sotto nei commenti a fare i massimi esperti di finanza. Questo è il mio punto di vista e sto condividendo con voi quello che c'è alla base quindi la strategia che secondo me dovreste avere non quello su cui dovresti investire. Il consiglio che sto a perderti ora infatti ti permetterà di guadagnare senza il bisogno di avere sempre ragione. Una volta che sei pronta ad investire quindi hai costruito il tuo cash flow e hai accumulato un po' di capitale non metterlo tutto subito sul mercato. Questo è l'errore più comune l'errore davvero che fanno tutti e che ho fatto anch'io la prima volta che mi sono approcciato al mondo delle cripto quindi so bene di cosa sto parlando perché ho pagato a mie spese questo errore. La soluzione a questo è fare dollar cost averaging ovvero DCA e questo vale per tutti gli asset di mercato non solo per le cripto perché nessuno ripeto nessuno saprà esattamente quando è il bottom di mercato quando è il minimo di mercato. Quindi la cosa più intelligente è andare a mitigare il rischio andando ad investire una piccola parte del capitale alla volta. Facendo un esempio pratico se hai 10.000 dollari ok vuoi investire 10.000 dollari su bitcoin ok inizia ad investire 1.000 dollari a settimana per 10 settimane ad esempio. Quindi la prima settimana bitcoin sarà a 16.000 dollari la seconda magari sarà a 13.000 la terza sarà a 12.000 poi sarà a 15.000 poi 10.000 poi 9.000 poi non lo so magari 20.000 ipotito sto sparando a caso. Però questo cosa vuol dire che voi avrete investendo in questo modo un prezzo medio di acquisto e mi raccomando per entrare nel mercato in questi momenti bisogna avere una visione di lungo termine. Parliamo di almeno 12 24 mesi non poter entrare nel mercato in questo modo ascoltare questo video che vi sto dicendo e voler fare il guadagno della vita in un mese perché non funziona così. L'opportunità c'è è reale è appunto durante la recessione che si costruisce la vera ricchezza che poi viene tramandata per generazioni ma non bisogna aver fretta perché opportunità non significa che è una scorciatoia un qualcosa di strano di appunto fatto dietro le quinte. Quindi come ho detto prima io lavoro sulla blockchain H24 di conseguenza quello su cui mi sento più confident nell'investire è il mercato cripto ma quello che dovete fare voi è anche capire il vostro livello di rischio ed investire nei mercati che appunto lo rispettano. Un'altra cosa intelligente è andare anche a diversificare gli investimenti però c'è una cosa molto interessante che ho sentito una volta da un miliardario ed è questa. Se il tuo portafoglio è occupato per l'80% ad esempio di un asset finanziario e dal 20% di un altro non vuol dire per forza che sei troppo esposto verso il settore di cui ti tieni appunto l'80%. Questo perché? Perché se la tua conoscenza è dell'80% su quel determinato settore allora va bene facciamo un esempio pratico per far capire meglio. Se io ho un portafoglio di investimenti dell'80% sul mondo NFT e del 20% sul mondo cripto ipotizzo non è over allocato perché va benissimo perché quello di cui mi occupo H24 sono proprio gli NFT. Quindi andare ad investire in immobili anche se è una cosa che potrebbe interessarmi per me è rischioso perché non ho consapevolezza nel mercato. Un'altra cosa molto importante ad andare a mente durante questo periodo è quello di tagliare le spese superflue. Ogni euro che tu spendi in questo momento nel periodo di recessione vale in realtà molto di più. Tu devi pensare che ogni euro potrebbe essere investito e quindi moltiplicarsi nel tempo. Il mio consiglio è affrontare gli acquisti con questa mentalità e vedrai che riuscirai in modo secondo me abbastanza semplice a spendere molto meno quantomeno a spendere il necessario. Mettendo in pratica tutto quello che ti ho appena detto e avendo una mentalità a lungo termine non c'è davvero nessun motivo per cui tu non debba avere un guadagno spropositato quando tutto ritornerà alla normalità. E se pensi che ormai è troppo tardi che è tutto crollato e che non si possa ritornare mai ai livelli di prima beh questo è proprio quello che si prova durante una recessione. Ma la storia ci ha insegnato che non è così. È tutto un ciclo e tutto si ripete. Se vuoi giocare d'anticipo e ti interessa il settore della blockchain e degli NFT ti invito ad iscriverti al mio canale. Pensate che quasi il 50% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale. Quindi se ti fa piacere supportarmi per tutto il valore gratuito che porto ormai da diversi anni qui su YouTube iscriviti al canale ed accedi anche al gruppo Telegram esclusivo dove condividi informazioni e news riguardo il mondo NFT in modo molto più veloce. Ti lascio il link qui sotto nel primo commento. Io ragazzi vi saluto, vi lascio al prossimo video e che Vitalik sia con voi. Grazie a tutti.